c'è una nuova derosa da cronometro che esordirà domani al giro d'italia a ben guardare amici miei l'abbiamo già vista questa bicicletta al giro di romandia con elia viviani il corridore veronese la utilizzerà ovviamente anche domani insieme ai suoi compagni della cofidis si chiama derosa tt disc è una bicicletta da cronometro che è stata ridisegnata evoluzione della precedente tt03 soprattutto per l'adozione definitiva dei freni a disco niente freni più tradizionali più almeno per quanto riguarda le biciclette da cronometro questo permette ha permesso anzi a derosa di aumentare lo spazio tra gli stelli della forcella e la ruota anteriore riducendo considerevolmente le turbolenze che si creano appunto tra forcella e ruota anteriore quindi migliorando l'aerodinamica la vedete qui alle mie spalle è in qualche immagine che abbiamo pubblicato nel nostro articolo su sideinside.it continuate a seguirci perché vi racconteremo ancora tante cose di questo giro d'italia e delle novità tecniche a presto grazie a tutti grazie a tutti